L'ictus cerebrale colpisce circa 120.000 persone ogni anno in Italia, meno del 30% è in grado di riconoscere precocemente i sintomi e fino al 40% dei sopravvissuti sviluppa spasticità. A fronte di questa situazione l'associazione italiana Ictus ha recentemente redatto il primo piano d'azione contro l'ictus. Partendo da questi dati approfondiamo il tema con Mauro Silvestrini, presidente dell'associazione italiana Ictus e professore di neurologia all'università politecnica delle Marche. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore innanzitutto perché un piano d'azione contro l'ictus in questo momento? Dunque guardi il piano d'azione sostanzialmente serve per indicare le strategie che sono più corrette per affrontare in maniera globale e soprattutto omogenea su tutto il territorio nazionale questa problematica che come giustamente accennava prima colpisce moltissime persone nel nostro paese. Devo ricordare che l'ictus rappresenta la seconda causa di morte in Italia e la prima causa di sviluppo di una disabilità. Subito dopo gli incidenti stradali, i traumi da incidente stradale, viene l'ictus come causa di comparsa permanente di deficit con cui tutti i pazienti sopravvissuti dovranno convivere. Ecco dunque quali sono i campanelli d'allarme per l'ictus cerebrale e perché è difficile distinguerli? L'ictus cerebrale è un qualcosa che effettivamente abbiamo constatato viene poco considerato per quanto riguarda la sintomologia di comparsa. Questo chiaramente riguarda non i casi più gravi cui il paziente improvvisamente si trova a perdere l'uso di un braccio o di una gamba quindi anche se non lo attribuisce ad un'ictus in maniera specifica non c'è dubbio che chiede immediatamente soccorso. Il problema è che inizialmente l'ictus può manifestarsi in forma più lieve con un'evoluzione che però poi sarà drammatica e avrà già prodotto danni quando il paziente poi decide di arrivare in ospedale. Quindi è molto importante sottolineare il fatto che basta un impaccio della mano o una difficoltà nello scandire le parole o nel comprendere quello che ci viene detto, un'improvvisa perdita di acuità visiva soprattutto in una parte del campo visivo ma anche una perdita di sensibilità in una parte del corpo, di solito una metà del corpo, sono sicuramente qualcosa che ci deve allarmare. Esattamente come un dolore al petto o alla spalla c'è all'arma perché pensiamo possa essere un infarto, anche dei segni non particolarmente gravi che però potranno diventarlo in pochissimo tempo deve indurci immediatamente a chiamare un soccorso. Come viene preso in carico il paziente colpito da ictus che sia ischemico o emorragico? Quali sono i trattamenti? Allora il primo punto fondamentale che poi viene di conseguenza alla necessità di riconoscere precocemente i segni è che la terapia, l'efficacia della terapia sia nel caso di una ischemia che di un'emorragia dipende in maniera preponderante dalla precocità con cui si interviene. Ecco l'altro aspetto fondamentale è che quindi l'ictus deve necessariamente essere trattato in un ospedale quindi non bisogna perdere tempo per esempio a chiamare il medico di medicina generale che in questo caso è molto importante nella gestione generale dei pazienti ma in questo caso non potrebbe far nulla. Quindi l'informazione importante è che bisogna andare immediatamente in ospedale perché bisogna immediatamente al più presto possibile fare almeno un'attacca cerebrale che distingua l'ischemia dall'emorragia e poi partire con i trattamenti che vengono fatti esclusivamente in ospedali dotati di una unità ictus. Nel nostro paese ce ne sono più di 200 e quindi ogni paziente che ha un'ictus in qualsiasi regione deve essere portato in una struttura dotata di unità ictus dove ci sono tutte le tecnologie, tutta l'expertise in grado di gestire in maniera adeguata la situazione e minimizzare i rischi di morte o di sviluppo di disabilità importanti. I primi passi in questo senso quali sono? Come ci si muove di fronte a una persona con questo problema? Allora come dicevo prima bisogna immediatamente appena arriva fargli subito un accertamento neuroradiologico. Un'attacca è il sistema più utilizzato, a volte anzi ci siamo sempre più indirizzando per l'esecuzione di un'attacca con studio anche dei vasi perché questo poi ha delle prospettive terapeutiche. Se si tratta di un'ischemia bisogna partire immediatamente con un trattamento che si chiama fibrinolisi che consiste nella introduzione per via venosa di un farmaco in grado di sciogliere l'embolo o il coagulo che sta occludendo il vaso e a volte è necessario completare il trattamento con un intervento endovascolare che si chiama trombettomia che consiste nella rimozione meccanica del materiale ostruttivo. Questo per le ischemie vale la pena di sottolineare che l'intervento è efficace, tanto più efficace e tanto più viene iniziato precocemente, quindi a distanza breve dall'insorgenza dei sintomi. Oggi abbiamo evidenze che esistono degli approcci anche per le emorragie che fino a pochissimo tempo fa erano considerate un po' la cugina povera dell'ischemia perché non avevamo trattamenti specifici. Oggi abbiamo delle ampie dimostrazioni che intervenire precocemente normalizzando i parametri vitali, la pressione, la glicemia, usando dei farmaci che nel caso in cui l'emorragia insorga in un paziente che sta assumendo terapia anticoagulante, questo rappresenta una grossa percentuale di casi di emorragia, esistono degli antidoti specifici e eventualmente c'è anche un'opzione chirurgica su pazienti selezionati. Ecco tutto questo provoca una netta riduzione della mortalità e soprattutto una maggior prospettiva di un recupero accettabile dal deficit che si è manifestato. Dicevamo prima che fino al 40 per cento delle persone può andare incontro a spasticità dopo un ictus. In questo caso che tipo di supporto è presente sul territorio per i pazienti e per le famiglie? Ecco questo è un punto estremamente importante e la ringrazio per la domanda perché questo se vogliamo definire un punto debole della catena di gestione del paziente con ictus, sicuramente la parte post acuto è quella che presenta ancora qualche difficoltà per arrivare ad una gestione ottimale. Questo è facilmente spiegabile perché è chiaro che la fase acuta dura poco tempo, si esaurisce in pochi giorni, ovviamente deve iniziare subito, immediatamente, dopo una settimana il paziente teoricamente dovrebbe essere stabilizzato. Quindi è chiaro che la lunghezza della gestione post fase acuta pone un problema di quantità di strutture recettive, quantità di strutture in grado di intervenire con una riabilitazione efficace, questo rappresenta un problema ed è un po' lo spirito contenuto nel piano d'azione di cui parlavamo all'inizio, la necessità di far capire quanto sarebbe utile, visto gli alti numeri, visto il numero di pazienti che ormai sopravvivono, non si muore più spesso, così tanto frequentemente per ictus in fase acuta, proprio perché esistono quelle terapie di cui parlavamo prima, ecco è necessario sviluppare maggiormente una catena di assistenza che gestisca il paziente, le necessità del paziente, a volte per periodi molto lunghi. esistono dei centri adeguati per il trattamento, per esempio con tossina botulinica, che è un trattamento efficacissimo nella spasticità, anche questi centri debbono essere maggiormente sviluppati e soprattutto bisogna garantire a tutti i pazienti una valutazione precoce ed eventualmente una presa in carico adeguata per quanto riguarda appunto una delle complicanze più temute che è la spasticità di un arto o di tutte e due gli arti che sono stati interessati dalla perdita di forza.